Due università telematiche trovano sede nel cuore della città. La Casa dell'Energia di Arezzo ha infatti formalizzato un accordo con l'Università Pegaso e Mercatorum. La struttura di Via Leone e Leoni diventerà così uno dei punti di riferimento del centro Italia per due realtà che coinvolgono migliaia di studenti in tutta la penisola. Sono due realtà importanti anche perché sono connesse con il mondo imprenditoriale e in qualche modo hanno un'offerta formativa ad ampio spettro che prende tantissimi corsi e non solo ma anche delle discipline e delle specialità che possono interessare proprio anche il tessuto cittadino a retino che in questo momento ha bisogno anche un po' di innovarsi. Quindi appunto quello che ho lanciato io con l'accordo con questa università e con tutti i partner di Casa dell'Energia è quello di cercare di creare un campus universitario che parta da una didattica in e-learning, cioè da una didattica in qualche modo virtuale in questo momento che poi si vada a completare anche con la presenza di alunni e di soggetti che sosterranno gli esami all'interno del tessuto cittadino e che quindi creino un indotto positivo anche per tutte le attività che sono presenti in città. Una collaborazione che si concretizzerà con l'attivazione di un infopoint per le immatricolazioni e con la concessione degli spazi per poter sostenere gli esami che uniti agli ambienti utilizzati per i percorsi ITS, energia e ambiente già attivi per l'alta formazione post diploma andranno così a creare un piccolo campus studentesco nel centro storico cittadino. Con ITS quindi, nonché anche l'altra fondazione che abbiamo, che è la Fondazione Verso che è una fondazione che si occupa di didattica nel mondo giovanile sono un fronte importante e credo la creazione all'interno di questo tessuto cittadino di un polo formativo veramente all'avanguardia sia nell'energia, nell'ambiente ma anche nella didattica in questo momento.